Musica Ho sempre pensato che il cibo potesse essere non soltanto un veicolo culturale, non soltanto ovviamente un sistema per fare impresa, ma che potesse essere anche un mezzo di supporto sociale, di sostentamento. Lo scopo è proprio quello di utilizzare il cibo come aiuto nei confronti di persone che ne hanno bisogno. Musica Forse il testimone più importante che potrei passare al prossimo Presidente, quello di dire guarda che tu puoi fare la differenza. Musica 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 Musica